15 aziende a retine del settore orafo parteciperanno dal 5 al 7 di ottobre ad una full immersion a Manhattan con la possibilità di incontrare importanti operatori americani, messicani e canadesi e gettarsi nel mercato a stelle strisce. L'iniziativa è del Centro Fiere e Congressi di Arezzo, che in attesa della Kermess di Oro Arezzo in programma a marzo ha messo a punto una serie di appuntamenti per il settore. Dopo Manhattan un altro workshop in forma sperimentale con altre 15 aziende, questa volta negli Emirati Arabi, anche questo in ottobre. Le presenze all'estero sono fondamentali, dice il direttore di Arezzo Fiere, Raul Barbieri, e rappresentano un indispensabile biglietto da visita sia per Arezzo Fiere che per l'intero distretto orafo a retino. Ci saranno anche appuntamenti italiani, come gli incontri d'autunno dal 17 al 19 di ottobre, 50 big buyers per un evento assai apprezzato dagli aziende. E poi Last Minute, 20 e 21 novembre, che ha l'obiettivo di creare un punto di contatto tra aziende interessate alla vendita diretta sul pronto e operatori italiani ed esteri orientati all'acquisto con questa modalità. Senza dimenticare Gold Up, la prestigiosa mostra realizzata in collaborazione con Vogue Gioiello, che continua nel tour mondiale. Dopo l'esordio di Las Vegas e le tappe cinesi, attualmente è a Santiago del Cile. E Gold Attitude, esclusivo mix tra le creazioni di Borsalino e un team di ora fiaretini, in mostre in questi giorni a Hong Kong.